salve a tutti del canale grando 88 oggi proviamo tutto per tutto bonus 5 per 10 per te vinci da 10 ben 10 euro su dati corrispondono a circa un'ora e mezzo di salario comune andiamo a vedere i nostri per 5 per 10 23 e 29 guardiamo prima colonna moltiplicatore da quanto è il moltiplicatore sopra non si gratta prima vediamo se abbiamo vinto e poi vediamo di quanto sarà il moltiplicatore 46 52 niente 15 niente 26 niente l'ultima colonna niente un saluto a tutti